Assessore, si parte in bici, di nuovo, ancora un elemento in bici in questa città? Il segno che è diventata un mezzo anche in qualche modo simbolico del modo in cui si muove in città. Mi piace l'idea che la Croce Rossa svolga un servizio in mezzo ai ragazzi, faccia sentire la loro presenza, è quasi una presenza quasi di pronto intervento, ma allo stesso tempo di sicurezza, una cosa rassicurante, e fa anche capire il senso e il valore del volontariato, perché grazie alla presenza di questi operatori che si mettono a disposizione, si raccoglieranno fondi per acquisire un defibrillatore, quindi per lavorare ancora di più per la vita delle persone quando dovesse capitare. E può essere anche utilizzato, come diceva la Presidente Colombani, in occasione di una grande festa. Noi ci auguriamo che rimanga solo una grande festa, che non ci sia bisogno ovviamente di intervento, però il fatto di sapere che c'è qualcuno che vigila su di te, che è pronto a intervenire, anche questo è assicurante.